Cosa era? Oh po' il ragazzo, non ho capito cosa era, allora era una palestra che si chiamava Pippo, che veniva a tal ora, in giro, a bombardare, allora mi scappavo. No, perché si chiamava Pippo? No, perché non mai so io, no, e dicevo, arriva il Pippo, bombardava il giorno, e a Cannac la traggiò la stazione, stazione di Cannac la sbattiva già il Pippo, sì. E allora mi scappavo, dove scappavo, e le comprate scarde non dà consenso, perché noi sposavamo e non dà consenso, no? A sette cinquanta, ho tirato i soldi, cinquanta ghei tutti i sabbets per comprare scarpi dei. Cinquanta ghei cosa sono? Sì, cinquanta centesimi di lira. Cinquanta centesimi di lira. Allora, dopo scappavi, lasciavi casa tutta la dote, scappavi con una scatola di scarpe sotto a sela, e mi dicevi, ma scontale perché lei è bianca e ti metto il Pippo, dopo ti bombardeggiò. Allora, lasciavi a casa la dote e scappavi solo con il pare di scarpe. E scappavi con il pare di scarpe perché mi eri la mania di scarpe. Sotto la sela della bicicletta? Eh? Sotto la scela! Ah, la scela! La scela! La scela! Chi? Mamma! Vai a prendere il prema che il te metto e non ti scappi! Eccoci!